Fattoria di Germagnano, siamo nella riserva naturale con Augusto Tocci che è il narratore delle favole di questo luogo incantato. In occasione della Fiera del Pastore organizzata dalla Unione dei Comuni Montani della Valtibrina Toscana, una full immersion nella natura. Questa era la vecchia sede estiva della forestale e quindi ora è nelle mani dell'Unione dei Comuni, è la porta di ingresso all'Alpe della Luna che è riserva naturale. E quindi siamo qui perché oggi qui racconteremo le novelle dell'Alpe della Luna che sono tante, compresa quella che ci permette di sapere che nell'Alpe della Luna si trovano tanti tartufi neri perché qui la maga dell'Alpe della Luna li andò a disseminare quando si accorse che la gente con i tartufi faceva i soldi, viaggiava in carrozza e mandava via le povere vecchiette che bussavano alla porta dei boscaioli. Qui sono arrivati tanti bambini che hanno imparato a cavalcare i somarelli, hanno visto come si ferrano i cavalli, fanno la cagliata e poi tante altre cose. Però vorrei che tu sapessi che insieme a me a raccontare queste novelle, non le chiamo favole, c'è un grande personaggio, un artista storico di Sansepolcro che è Franco Alessandrini.